L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha aggiornato i dati relativi al terremoto avvenuto alle 22.19. Il sisma ha avuto magnitudo 4.1, ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro a 5 dai comuni di Socchieve, tramonti di sopra, non lontano dal passo rest. Al momento sono seguiti almeno sei lievi scorse di assestamento, la più forte delle quali di magnitudo 2.3 alle 22.45. Il sisma è stato avvertito in tutta la regione, da Pordenone a Udine a Trieste. Ma anche in Veneto, in Trentino Alto Adige, nelle confinanti Austria e Slovenia. I centralini dei Vigili del Fuoco hanno ricevuto decine e decine di telefonate. Secondo la protezione civile, la scorsa è stata avvertita dalla popolazione, ma dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose. Alcune tegole di vecchi fabbricati sono cadute a terra durante il movimento tellurico nel comune di Socchieve. In corso la verifica se vi siano ulteriori danni strutturali. Diciamo che la situazione è abbastanza bene, abbastanza buona. Oltre a danni a cose, danni a persone non abbiamo avute sicuramente, non mi sono giunte notizie in questo senso. Danni, quelli che normalmente avvengono in situazioni simili di una tipologia di magnitudo di 4.7 che è stato rilevato nella zona tra tramonti e caprezzi.